Bella ragazzi, qua è Ghiotto e signori, oggi siamo nel pronostico, nell'opinione, nel pensiero dei tifosi laziali sulla partita di stasera Lazio-Siviglia, partita attesissima, durissima e proprio stasera chiamiamola sfiga, però io non la chiamerei sfiga Però ci mancano due dei giocatori più importanti della nostra rosa, purtroppo nell'arco di una stagione gli infortuni fanno parte del calcio Purtroppo c'è la partita che la tua squadra avversaria ha molti infortuni e c'è la partita invece che tu hai molti infortuni Certo è che proprio Milinkovici Immobile, proprio in questo periodo si dovevano infortunare, proprio adesso, purtroppo sì Io vi lascio il video presentazione del Siviglia, che ho apprezzato un po' la squadra, vi ho detto i segreti, le curiosità In alto ad essere nelle schede, è uscito qualche giorno fa Dopo vedremo anche l'opinione di una tifosa laziale, di una youtuber laziale che ho deciso di portare sul canale Vi invito ad iscrivervi al suo canale, ve lo lascio nel primo link in descrizione Però veniamo ai miei presentimenti, al mio pensiero per questa partita Io vedo una sfida, parlando di andate e ritorno, in generale di passaggio del turno A favore della squadra andalusa, del Siviglia, perché è più abituata a queste competizioni Poi appunto, avendo anche due infortuni così importanti, noi partiamo ancora più sfavoriti Di quanto lo si era già Però, per quanto riguarda la partita di stasera E isolando solo il match di stasera, pensando solo a quello, io sono abbastanza fiducioso Fiducioso cosa vuol dire? Che io penso alla Lazio vinca E magari anche con un risultato risicato, 1-0, 2-1, 3-2 Però io ci credo comunque E in attacco saranno Corea e Caicedo A guidare appunto il nostro reparto offensivo Caicedo in forma Corea secondo me, questa partita, queste due partite diciamo, saranno un po' E' una prova del 9 Perché Corea, io l'ho detto anche nel video contro l'Empoli Un giocatore che per ora ha dimostrato a partita in corso di essere un grande giocatore Dall'inizio di essere un giocatore normale Io sono convinto che ha ancora tanti margini di crescita Però adesso, in questo momento, che ci mancano 10 giocatori importanti E ora che Corea dia qualcosa in più Prende in mano la squadra Sono convinto che Caicedo farà un'ottima partita Lui Salberto Ragazzi, Lui Salberto, anche lui, deve fare la stessa cosa di Corea Prendersi in mano la squadra Il Sivile, diciamo che in trasferta, è molto meno temibile che in casa Noi dobbiamo cercare comunque di non andare a aggredirli subito Una partita calma Una partita anche di attesa Perché l'importante è non subire gol Anche se vincessi 1-0 andrebbe bene lo stesso Poi là sarebbe durissima Però concentriamoci prima su stasera Io rimango fiducioso Ho molta paura So che il Sivile è favorito Inutile negarlo Perché, proprio come ho detto, ha più abitudine a giocare queste partite Poi, a noi, ci manchino i giocatori migliori Però io sono fiducioso Non solo ci spero, ma sono veramente fiducioso Adesso, vi lascio all'opinione e al pensiero di Silvi Che, intanto, saluto, ringrazio Faremo, penso, altre collaborazioni in seguito Vi ricordo di iscrivervi al mio canale E anche al suo Che ve lo lascio in descrizione E niente, vi lascio appunto al suo pensiero E poi lo commentiamo alla fine Benvenuti ragazzi, sono Silvi E oggi mi trovo sul canale di Couture99 Che, tra l'altro, ringrazio per la partecipazione Per parlare di Lazio-Siviglia Partita che si giocherà domani E che vedo abbastanza complicata Diciamo, più che altro Non perché reputo il Siviglia nettamente superiore alla Lazio Ma più che altro perché noi, tre top player Ieri abbiamo, due dei quali Sono tutti e sono rotti e non giocano E a Calla che, insomma, siamo un po' svantaggiati Milinkovic proprio è sicuro Che non giocherà neanche quella del ritorno Quindi, vabbè, te saluto Immobile si è fatto male E ovviamente Inzaghi non lo vuole rischiare Cosa che comunque capisco Perché ci manca solo che lo mandiamo in campo E se rompe definitamente Così ho proprio cacchi amari Il problema è che, comunque Mentre magari al centrocampo Al posto di Milinkovic Abbiamo un po' più di soluzioni Tra virgolette In attacco, cioè, noi dobbiamo giocare Chaiseto, nel senso Cioè, Chaiseto, tesoro mio Chaiseto, nel senso Non è un attaccante Secondo me non è un attaccante Può cercare di risolvere Può risolverti Partite contro squadre Come Empoli e Frosinone È stato bravo, sì Però Contro il Siviglia In Europa League È un po' un'altra storia Ecco, secondo me Chaiseto può giocare A fianco ai mobili Fare le sue sponde Ma da sola La vedo difficile Spero ovviamente Che Luis Alberto e Correa Si inventino qualcosa Lo spero ovviamente L'unica nota positiva Della partita È che è tornato Un'isferito E quindi non giocheranno Né Wallace Che poi dall'alto è infortunato Né Bassos Quindi Già un'ansia in meno Però comunque Sarà una partita Molto molto tosta Quindi ragazzi Noi incrociamo le dita Sempre forza Lazio È bella Allora avete ascoltato Appunto l'opinione di Scilbi Più o meno in linea Con quello che dico io Lei magari non ha Molta fiducia in Kaisedo Io invece sono convinto Che Possa Posso confermare Le prestazioni Che ha fatto buone Contro Empoli E Frosinone E ha ragione Quando dice Che gioca Luis Felipe Per esempio Non l'ultimo Bastos Visto ad Empoli Che veramente È stato Horror Veramente Ogni volta che aveva la palla Anche quando era solo Io Ho perso un anno di vita Veramente Quindi sono contento Che giochi Luis Felipe E niente ragazzi Vi invito a seguirmi su Instagram Vi saluto Ci vediamo poi stasera Ovviamente Con il post partita Mamma mia Che ansia Ciao ragazzi Mi musica no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago musica Grazie a tutti Grazie a tutti